non è mai solo uno schiaffo perché se usa violenza non è amore se ti fa del male fisico non è amore se ti intimidisce non è se ti dice che senza di lui non sei nulla non è amore se limita la tua libertà economica non è amore se ti impedisce di chiedere aiuto non è amore se ti telefona di continuo per insultarti non è amore se ti controlla erano ossessivo non è amore se minaccia te e i tuoi figli non è amore se ti umilia se ti isola non è amore l'amore non è sovruso noi non lasceremo mai da sole le donne vittime di violenza noi saremo inflessibili con i maltrattanti ma l'aiuteremo a riconoscere le proprie responsabilità per sconfiggere la violenza di genere occorre anche favorire il raggiungimento di tale consapevolezza vinci le tue paure i tuoi dolori la tua vergogna non sei sola noi ci saremo sempre un buon pomeriggio dalla redazione di e live come avrete visto dalla nostra copertina abbiamo deciso di dedicare l'apertura di questo telegiornale alla giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne che si celebra proprio in data odierna il 25 novembre una problematica che purtroppo è ancora troppo diffusa anche nella nostra provincia per per scoprire insomma quali sono le situazioni attualmente e a brescia e nel suo territorio veniamo insieme quelli che sono i dati che ha comunicato sia la questura sia i carabinieri in merito alla alla blotta contro questa problematica davvero davvero troppo importante il 25 novembre è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne purtroppo le cronache devono troppo spesso riportare notizie di molestie e violenze un po ovunque nella nostra provincia dati che mettono in luce come questa problematica sia ancora molto diffusa i carabinieri di brescia quest'anno nell'ambito del codice rosso hanno eseguito 55 arresti e denunciato 495 persone sono invece 95 le vittime indirizzate ai centri antiviolenza spesso quando arrivano segnalazioni di questo tipo di violenze specialmente in ambito domestico agire rapidamente ha un'importanza capitale sempre quest'anno le indagini dei militari hanno consentito di eseguire numerosi provvedimenti urgenti 14 allontanamenti dalla casa familiare 4 di vieti di avvicinamento e 21 di vieti di dimora numeri che non possono lasciare indifferenti quelli comunicati dalla questura di brescia in merito alla violenza di genere nel territorio di brescia e provincia quest'ultimo anno ha visto 112 richieste di aiuto 109 donne e tre uomini delle quali 25 respinte per mancanza di presupposti sono stati però emessi dal questore 18 monumenti l'identichitta delle donne bersaglio di violenza e minacce è abbastanza definito l'età media è di 40 anni in genere italiane sposate e con figli non ci sono inoltre aree della nostra provincia più o meno colpite si tratta infatti di un fenomeno tristemente capillare su tutto il territorio quest'ultimo anno ha visto gli agenti della polizia di stato attivare per 117 volte il codice rosso un protocollo ad hoc che permette alle forze dell'ordine di intervenire rapidamente e quindi mettere in salvo le vittime il bilancio finale conta nove molestatori incarcerati e due posti agli arresti domiciliari mentre cinque individui hanno ricevuto un'ordinanza di divieto di avvicinamento e due sono stati allontanati dalla propria famiglia l'appello della questura è sempre quello di trovare il coraggio di denunciare anche se si tratta di un passo davvero non facile è l'unico modo per porre fine a un incubo quotidiano violenza sulle donne che sarà anche la tematica principale della puntata di sette e mezzo in realtà lo è stato nella puntata di sette e mezzo di ieri sera che potrete rivedere subito dopo questo telegiornale con il nostro direttore paolo bollani con l'assessore alle pari opportunità del comune di brescia roberta morelli per scoprire anche quali saranno le iniziative qui nella nostra città in questo anno ovviamente che è segnato dal covid non non prevede non può prevedere iniziative fatte diciamo così in in modalità fisica insomma di persona ora appunto torniamo a parlare di quella che è l'emergenza coronavirus lo facciamo partendo dalle parole del professor franco locatelli il presidente del consiglio superiore di sanità parlato ieri in conferenza stampa e ha fatto un quadro di quella che è la situazione del contagio in italia ci sono degli aspetti negativi come il numero dei decessi che purtroppo è ancora molto alto ma anche alcuni aspetti positivi sentiamoli insieme una settimana fa avevamo avuto 731 decessi oggi purtroppo ne registriamo 853 quindi sono esattamente 122 di più e questo evidentemente è un numero che non avremmo mai voluto né vedere né commentare a fronte di questo dato che evidentemente deve richiamarci all'importanza di andare avanti nella strategia che è stata intrapresa ci sono degli indicatori a cui faceva prima riferimento gianni che invece confermano quello che avevamo definito come iniziale ma chiara riduzione della trasmissibilità il rapporto dei tamponi positivi rispetto agli effettuati oggi è del 12,31 per cento a fronte del 15 44 di una settimana fa il numero degli accessi nelle terapie intensive di 6 a fronte dei 120 di una settimana fa il numero dei ricoveri nelle aree mediche di 120 di nuovo stavolta però per questa settimana verso i 538 quindi indubitabilmente questi indicatori vanno nella direzione sperata e servono per trarre ulteriore motivazione incentivazione a perseguire tutta la strategia che è stata messa a punto e le considerazioni del professor locatelli seppur in una dimensione a livello nazionale possono essere tranquillamente applicati anche sulla nostra regione vediamo infatti quelli che sono i dati sul nostro sito internet live brescia.tv comunicati nella serata di ieri vediamo appunto un calo dei contagi in Lombardia ma purtroppo non nel numero dei decessi a Brescia sono 226 i nuovi casi vediamo nel dettaglio l'infografica di regione Lombardia che come di consueto appunto riporta il bollettino per quanto riguarda il nostro territorio regionale vediamo che i tamponi sono leggermente calati rispetto alla giornata precedente sono 31.033 che hanno portato alla luce quasi 5.000 positività nel dettaglio 4886 scende leggermente di qualche numero decimale quindi quella che è la percentuale fra i tamponi risultati positivi e i tamponi processati l'altro ieri era al 16 per cento ieri si è attestata al 15.7 per cento dato di Brescia 226 che più o meno come sempre negli ultimi giorni resta nella via di mezzo un dato medio rispetto alle altre province Lombarde resta però sempre chiara nonostante si siano abbassati tutti i dati la spaccatura fra l'ovest e l'est Lombardo Milano fa segnare ancora 1.442 nuovi casi positivi Varese un dato davvero importante quello di ieri 1.011 nuovi casi positivi Monzebrianza 496 e Como 428 poi via via a calare tutte le altre province molto basse dobbiamo dire quelle dell'est Lombardo come comunque caratteristico in questa seconda ondata diamo uno sguardo al dato dei ricoveri sono meno 13 quindi un calo davvero importante che si conferma per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva che attualmente sono 932 mentre tornano purtroppo a salire anche se è una cifra piuttosto ridotta rispetto a quelle a cui eravamo abituati la scorsa settimana i ricoveri non in terapia intensiva più 29 8.360 in tutto come abbiamo sentito anche dal professor Locatelli non accenna a diminuire invece il dato dei morti anzi quest'oggi cresce in Lombardia con un più 186 oltre 20.850 le vittime nella nostra regione dall'inizio della pandemia a Brescia ci ha fatto sapere poi a TS che negli ultimi giorni sono stati 10 decessi segnalati a causa del covid tutti di età compresa fra i 76 e gli 89 anni alla luce di questi dati stamattina ha parlato anche l'assessore al welfare di regione Lombardia Giulio Gallera stando se i dati restassero così anche nei prossimi giorni da venerdì la Lombardia potrebbe non essere più in zona rossa resta da vedere quale sarà la decisione politica se mantenere la zona rossa fino a dicembre per passare poi direttamente la gialla oppure se fare l'intermezzo dell'arancione per una decina di giorni prima di passare la gialla direi di sì i dati di regione Lombardia sono in netto miglioramento nella zona di Milano l'R Conti è addirittura sotto l'1% e così si sta avviando in tutta la regione aspettiamo l'istituto superiore di sanità il confronto con il governo come ha detto il presidente Fontana oggi siamo quasi da zona gialla lo ha detto l'assessore al welfare di regione Lombardia Giulio Gallera intervenendo questa mattina Mediaset rispondendo così alla domanda se da venerdì la Lombardia potrà uscire dalla zona rossa obiettivo nostro e anche del governo ha proseguito Gallera è che nel periodo delle feste natalizie da Sant'Ambrogi in poi ci sia la possibilità per i negozi e anche i ristoranti di riaprire per far ripartire l'economia è chiaro ha spiegato che tutto questo va gestito con prudenza sia da parte dei singoli cittadini sia da parte dei proprietari dei negozi e dei gestori dei ristoranti se ci affogliamo nei negozi se andiamo a fare le vasche in centro gomito a gomito e ci troviamo a fare cenoni con tante persone è chiaro che ci ributtiamo in una situazione di pericolo se invece gestiamo tutto con giudizio potremmo salvaguardare l'economia del periodo natalizio quando si avranno i dati definitivi per effettuare la scelta bisognerà capire poi che strade intraprendere dalla regione sembra emergere la volontà di procedere con cautela senza forzare i tempi mantenendo il colore rosso fino a dicembre per poi passare direttamente al giallo ma stando ai numeri ci sarebbe anche la possibilità del passaggio intermedio in zona arancione già da venerdì abbiamo sentito parlare in quest'ultimo servizio delle vacanze natalizie se ormai è assodato che le vacanze non saranno vere e proprie vacanze non si potrà andare a sciare evidentemente e bisognerà stare molto attenti anche per quanto riguarda feste cenoni cene e tutto quello che comporta la festività appunto di natale e di capodanno vediamo però secondo col diretti quali possono essere i riscontri economici le conseguenze economiche scusate di misura di questo tipo i limiti alle vacanze sulla neve colpiscono 3,8 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanze in montagna nelle feste di fine anno e quanto emerge da un'analisi di col diretti x e in riferimento alle dichiarazioni del premier giuseppe conte che per contenere la diffusione della pandemia covid ha escluso tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio a cominciare da vacanze indiscriminate sulla neve si tratta di una decisione destinata ad avere effetti non solo sulle piste da sci ma sull'intero indotto delle vacanze in montagna dall'attività dei rifugi alle malghe fino agli agriturismi già duramente colpiti dal lockdown di primavera e dall'assenza dei turisti stranieri proprio dal lavoro di fine anno dipende buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole che con le attività di allevamento e coltivazione sottolinea col diretti svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico l'abbandono e lo spopolamento la montagna è la destinazione privilegiata di oltre 10 milioni di turisti di natale e capodanno che lo scorso anno hanno trascorso in media sei giorni fuori da casa per una spesa complessiva di 4 miliardi di euro a pagare il prezzo più salato delle limitazioni sottolinea la col diretti sono le strutture impegnate nell'alloggio nell'alimentazione nei trasporti divertimenti shopping e souvenir a preoccupare però sono anche i vincoli e i cenoni e i pranzi in casa e fuori la riduzione dei commensali sarebbe infatti destinato a provocare un taglio nei consumi di 70 milioni di chili fra panettoni e pandori 74 milioni di bottiglie di spumante tonnellate di pasta 6 milioni di chili fra cotechini e zamponi e frutta secca pane carne salumi formaggi e dolci spartiti dalle tavole lo scorso anno solamente fra il pranzo di natale e i cenoni della vigilia di capodanno il crollo delle spese di fine anno a tavola e sotto l'albero rischiano di dare un colpo di grazie ai consumi alimentari degli italiani che nell'intero 2020 conclude col diretti fanno segnare un crollo storico del 12 per cento con una perdita secca di 30 miliardi di euro raggiungendo il valore minimo degli ultimi dieci anni per la cronaca tocchiamo ancora il tema coronavirus infatti vediamo come si è vindicato questo giovane di padenghe sul garda dopo che si è visto notificare un verbale per il mancato rispetto delle norme anticovide dalla polizia locale una manciata di giorni fa si era visto notificare dalla polizia locale della valtenisi un verbale per il mancato rispetto delle norme anticontagio questo provvedimento non deve essere andato troppo a genio a un 25enne di padenghe sul garda che non accettando la sanzione ha ben deciso di farsi vendetta da solo ritenendosi infatti vittima di un'ingiustizia invece di fare ricorso al prefetto ha preferito fare da sé introducendosi durante la notte nel comando della locale con una sua automobile lì coltello alla mano ha tagliato gli pneumatici delle macchine di servizio procurando un danno di circa 1000 euro a questo punto sono entrati in campo i carabinieri di manerba che grazie all'analisi dei verbali elevati nei giorni precedenti al confronto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti in poco tempo a individuare il colpevole una volta messo alle strette il giovane non ha potuto far altro che ammettere le sue colpe e perciò è stato segnalato alla procura ora invece vediamo quello che è un bilancio dei controlli della polizia stradale sulle arterie viarie breciane sono oltre 1200 i punti pensate bruciati con le varie infrazioni e nei vari controlli dei posti di blocco sia in viabilità ordinaria sia autostradale controlli che questa settimana si sono anche dovuti confrontare con vari episodi di trasportatori trasporti illegali sono 805 le infrazioni rilevate dalla polizia stradale nell'ultima settimana di controlli sulle arterie viarie breciane verbali che sono costati ai guidatori ben 1269 punti in totale le 148 pattuglie che hanno vigilato sul rispetto delle norme stradali hanno inoltre ritirato 11 patenti di guida e 9 carte di circolazione oltre ad aver effettuato 10 fermi amministrativi nel periodo in questione sono state contestate 8 violazioni per eccesso di velocità e 15 violazioni per velocità pericolosa inoltre sono state contestate 44 violazioni per l'uso del telefonino alla guida e 39 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza queste si confermano le principali infrazioni ancora commesse sul nostro territorio due distinti episodi di trasportatori che effettuavano il lavoro senza rispettare le norme in un caso il conducente non aveva nemmeno la patente entrambe le violazioni sono state riscontrate sulla 35 a seguito dei controlli della polstrada di chiari il primo era un uomo di origine peruviana con un documento di guida scaduto nel 2019 non era però solo questo il problema gli agenti hanno infatti scoperto che non era stata aggiornata la proprietà del veicolo che il tachigrafo era irregolare e che il foglio di registrazione dei tempi di guida e riposo non consentiva la verifica dell'attività svolta in quanto presenti sovrapposizioni di registrazioni senza riportare il nome del conducente la targa e i chilometri percorsi alla pesante sanzione si sono aggiunte anche restrizioni sia per il guidatore che per il proprietario del mezzo non contento il giovane peruviano è tornato alla guida ed è stato nuovamente beccato a distanza di pochi giorni questo ha aggravato ulteriormente la sua posizione sempre sulla brebemi un controllo è costato la patente a un conducente un giovane piemontese il quale stava effettuando con una targa di prova il trasporto per conto di un garage milanese di un'autovettura di lusso targata tedesca il trasporto è stato considerato abusivo con l'aggiunta del fatto che non era stata inserita la carta del conducente e che la targa provvisoria era stata utilizzata indebitamente ora passiamo alla pagina sportiva parliamo di brescia calcio vediamo davvero un aggiornamento dell'ultimo ora arrivato poco prima che andassimo in onda con questo telegiornale per farlo vi porto sul nostro sito internet livebrescia.tv eccolo qua positivi nel brescia calcio la società rinuncia alla trasferta di coppa italia a empoli già nel telegiornale di ieri sera eravamo riusciti a riportarvi il fatto che comunque c'erano dei problemi a torbo nel centro sportivo c'era la sospetta positività al covid di alcuni membri del gruppo squadro comunque tesserati della società si attendevano i risultati ed ora il brescia calcio davvero attorno a mezzogiorno e mezzo rilasciato questo comunicato brescia calcio comunica che a seguito dei tamponi effettuati come da protocollo nella giornata di martedì 24 novembre nella mattinata odierna alcuni elementi del gruppo squadra sono risultati positivi pertanto data la situazione il club ha deciso di rinunciare alla trasferta di coppa italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del gruppo squadra che potrebbe compromettere la continuazione del campionato di serie b questa mattina conclude il comunicato sono ripresi gli allenamenti in forma individuale per i tesserati risultati negativi al tampone quindi niente da partita oggi pomeriggio il fischio d'inizio sarebbe dovuto essere le 14 e 30 di oggi in coppa italia in toscana contro l'empoli partita a cui brescia non parteciperà vedremo se ci sarà un rinvio e quando sarà recuperata questa partita e vedremo anche come si svilupperà questo potenziale purtroppo focolaio all'interno del gruppo squadra del brescia calcio anche ovviamente in ottica campionato sportoresciano che davvero sta facendo i conti con il covid in questi giorni vediamo cosa è successo nella serata di ieri all'atlantide pallavolo brescia la società atlantide pallavolo brescia comunica la positività al covid 19 di due componenti del gruppo squadra emersa a seguito del tampone molecolare effettuato in data 23 novembre il club ha provveduto ad informare la commissione medica della lega volley gli atleti sono in isolamento fiduciario e il gruppo squadra effettuerà tutte le verifiche previste dal protocollo questa la breve comunicazione della società giunta nella serata di martedì non sono attualmente noti i nomi dei tesserati risultati positivi al controllo che è stato effettuato invece lunedì i tucani sabato avevano giocato una partita di campionato al san filippo contro reggio emilia bisogna ora vedere quale sia la situazione all'interno del gruppo squadra per capire cosa si deciderà in vista del prossimo impegno in campionato ultimo appuntamento ultima partita dell'atlantide pallavolo brescia proprio quella con reggio sarà al centro anche della puntata di questa sera di atlantide quindi non perdetevela con la sintesi della partita e tutte le interviste del post gara sperando ecco di poter vedere una partita anche nel prossimo fine settimana in conclusione io vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet livebrescia.tv dove oltre alle notizie trovate anche la diretta del nostro canale 16 197 le digitale terrestre e potete anche iscrivervi ai nostri canali telegram e livebrescia news e livebrescia sport per ricevere tutte le notizie in tempo reale sul vostro telefono cellulare senza fare alcuna fatica in conclusione vi ricordo anche l'appuntamento 1835 con il nostro progetto per aiutare le persone più bisognose di brescia specialmente in vista delle feste natalizie che per tutti saranno intime ma per molti saranno anche molto difficili un ringraziamento per averci seguito una buona giornata a tutti voi puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e live play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su spotify apple podcast spreaker e google podcast del nostro canale